Gli altri ti criticano quando fai cose straordinarie. Ci sono persone che si fanno affondare dalle critiche degli altri, cioè quando si scontrano con il pensiero altrui o vengono duramente criticati di persona, cosa che non capita quasi mai perché spesso le persone criticano alle spalle, ma magari sui social o da parte di chi, un parente o qualcuno che con voi ha una certa confidenza e quindi di critica, ecco ci sono persone che si fanno affossare, si fanno buttare giù, che rinunciano ai propri sogni, ai propri desideri, perché vengono criticati dagli altri. Ci sono altre persone invece che comprendono che gli altri ti criticano proprio quando tu stai facendo delle cose straordinarie, cioè fuori dall'ordinario e quindi sono capaci di prendere queste critiche come una sorta di segnale positivo della direzione in cui stanno andando. Questo ragionamento è complesso e vorrei farlo con voi qui dal bosco, ha molte sfaccettature e vorrei provare a toccarle tutte per comprendere come possiamo utilizzare in maniera molto intelligente le critiche degli altri per capire se stiamo andando nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Queste chiacchiere che faccio si chiamano riflessioni dal bosco perché io mentre passeggio quasi quotidianamente nel bosco faccio dei pensieri, ho delle idee, faccio dei ragionamenti e poi li condivido con voi e amo pensare che magari molti di voi non abbiano il tempo di pensare come non l'avevo io quando lavoravo, ero troppo preso dal correre la mattina, la sera, fare le cose e invece ritagliarsi un momento alle 6 di mattina quando pubblico questi video per fare insieme dei ragionamenti può essere un'occasione di crescita. Come dicevo, vieni criticato quando fai delle cose che sono straordinarie possono essere dei fatti, possono essere dei pensieri, possono essere dei ragionamenti può essere uno stile di vita che adotti, delle scelte perché straordinario vuol dire fuori dall'ordinario e quindi se quello che tu fai esce dagli schemi chiaramente gli altri sono portati in maniera naturale a criticarti perché vivono quasi tutti, viviamo quasi tutti all'interno di questi schemi che ci danno sicurezza e quando qualcuno li rompe questi schemi la loro paura di in qualche modo dell'ignocio di quello che capita vivendo diversamente da come ci hanno insegnato o facendo delle scelte che sono al di fuori di quello che scegliono tutti, di quello che pensano tutti li spaventa un po' e questo spaventarsi, questo essere spaventati genera delle critiche però non sempre quando si fa qualcosa di straordinario si ha la certezza che questa straordinarietà sia positiva ad esempio se uccidi qualcuno hai fatto un atto straordinario perché è di certo, è innegabile che sia un atto fuori dall'ordinario ma non è qualcosa di positivo quindi non è un buon segnale per la tua vita ci sono anche situazioni più sottili ad esempio se tu sei un terrapiattista oppure credi che la gravità non esista hai un pensiero certamente straordinario perché è fuori dall'ordinario ma in questo caso non è qualcosa di positivo perché tu credi di essere un rivoluzionario tu credi di essere una persona che ha capito tutto in realtà ti manca soltanto studiare la fisica a livello universitario perché con la fisica del liceo si potrebbe anche credere che la gravità non esista quando poi si studia la fisica a livello universitario si capisce che invece non c'è via di scampo la gravità esiste e non è una questione di densità come alcuni vogliono far credere cioè questo per dire che la straordinarietà dei tuoi pensieri non è sempre detto che sia poi una verità o qualcosa di positivo ci sono altre situazioni nelle quali ciò che fai invece di straordinario è assolutamente positivo ad esempio la maggior parte delle persone vive non curante di avere rispetto nei confronti dell'ambiente per cercare di preservare la natura così com'è e lasciare alle generazioni future un posto vivibile quindi vivere in modo sostenibile diciamo quindi consumare poca carne cercare di non comprare qualunque sciocchezza provenga dalla Cina in quelle gigantesche navi container cercare di produrre pochi rifiuti avere uno stile di vita sostenibile è una scelta di vita straordinaria perché fuori dall'ordinario viene ampiamente criticata perché molte persone danno a chi vive in questo modo io ad esempio cerco di vivere il più possibile in questo modo dei visionari delle persone che fanno delle cose degli hippie, dei creduloni delle persone che magari addirittura credono in questa bufala dei cambiamenti climatici viene ampiamente criticato perché magari sei vegano ed è una scelta di vita molto rispettosa quella dei vegani nei confronti della natura degli animali e anche in molti casi non sempre è fortemente sostenibile viene criticato perché fai una cosa fuori dall'ordinario ma non c'è dubbio che avere il rispetto dell'ambiente sia qualcosa di positivo quindi quando inizi a ricevere delle critiche è molto complicato cercare per te di capire se la direzione che stai prendendo è una direzione giusta o sbagliata o quello in cui pensi sia giusto o sbagliato basandoti soltanto sul fatto che le critiche che stai ricevendo sono delle critiche e quindi sono dei segnali della straordinarietà del tuo modo di vivere molto difficile l'unica cosa che ti può salvare è la cultura cioè studiare studiare e studiare e non fermarti soltanto a certe fonti certi siti certi giornali certi libri ma cercare di guardare un argomento da più punti di vista anche quelli che ti infastidiscono anche quelli che non ti piacciono ma anche quelli che vanno contro il tuo modo di pensare per crearti una cultura che sia la più grande la più completa possibile vi faccio un esempio qualche anno fa io ero convinto che il signoraggio monetario fosse qualcosa di reale cioè il fatto che quando si prende in prestito del denaro bisogna dare degli interessi indietro ma se nessuno questi interessi questi soldi in più li genera da qualche parte devono essere presi e quindi i fallimenti delle aziende sono qualcosa di normale ero convinto di questa cosa ma lo ero perché non avevo la conoscenza completa dell'argomento mi mancava un parametro che è la velocità di circolazione della moneta per cui non tutto il denaro che esiste deve essere fisicamente esistente ma la velocità di circolazione del denaro crea del denaro sostanzialmente del nulla che può esistere quasi a tempo indeterminato e quindi distrugge completamente il concetto di signoraggio economico l'ho capito col tempo l'ho capito studiando rivedendo le mie posizioni nel libro smettere di lavorare parlo del signoraggio economico ed è qualcosa di sbagliato che dopo ho ritrattato in altri libri perché non avevo sufficiente conoscenza ecco la cultura quindi ti salva da questo la cultura ti aiuta a capire se la direzione che tu stai prendendo studiare mettere in dubbio tutto quanto ma soprattutto mettere in dubbio le tue certezze questo è importante mettere in dubbio le tue certezze le tue convinzioni è qualcosa che ti porta ad un livello superiore rispetto agli altri di conoscenza e quindi a capire in maniera autonoma se la direzione che tu stai prendendo è una direzione positiva oppure negativa e quindi questo è il primo aspetto il secondo aspetto è l'esperienza il persistere cercare di andare avanti nonostante tutto cioè se credi fortemente in qualcosa il tempo ti darà ragione e quindi non ti devi fermare nel momento in cui incontri le prime difficoltà ma devi perseverare perché questo ti aiuta a capire se poi la direzione che stai prendendo funziona o non funziona quello in cui pensi credi ritieni corretto le idee che hai lo stile di vita che stai adottando il progetto che stai portando avanti diciamo è destinato ad avere successo oppure no sia giusto sia sbagliato sia qualcosa di positivo o di negativo quello che però è importante osservare è che quando invece c'è l'assenza di critica cioè stiamo vivendo una vita nella quale tutto è normale nessuno critica le nostre scelte siamo perfettamente allineati agli altri allora stiamo vivendo in una condizione molto pericolosa perché se ci comportiamo come tutti e quella condizione è l'unica nella quale nessuno ti critica cioè ti comporti esattamente come gli altri e come gli altri ci aspettano questo significa che tu fai parte della massa che tu sei la massa sei il gruppo di persone che viene condizionata dalle pubblicità che le multinazionali sanno benissimo come trattare per indirizzare verso un certo prodotto verso un certo pensiero verso un certo modo di stile di vita che i politici sanno manovrare facilmente perché la massa pesa tutta nello stesso modo e quindi è facile farle cambiare idea ed è efficace far cambiare idea ad un gruppo di persone molto grandi funziona politicamente parlando per ottenere voti perché è facilmente classificabile facilmente identificabile quindi far parte della massa è qualcosa di estremamente negativo perché vuol dire che sei il gruppo di burattini che viene mosso dai potenti e quindi l'assenza di critica è il fatto che stai vivendo una vita che è perfettamente allineata col modo considerato normale di vivere vivi come tutti fai quello che fanno tutti ha gli stessi identici ritmi di tutti gli altri pensi esattamente quello che pensano gli altri credi esattamente quello in cui credono gli altri sei una bandiera politica vai da una parte o dall'altra sei una bandiera dei giornali leggi un articolo ci credi ne leggi un altro ci credi anche se parlano dell'opposto eccetera sono tutti segnali che fai parte della massa e che stai vivendo una vita quindi che è molto facilmente condizionabile e molto probabilmente quello che stai pensando quello in cui credi è talmente ordinario è talmente banale da non essere nemmeno farina nel tuo sacco cioè sono idee che qualcun altro ti ha messo in testa attraverso tecniche di comunicazione che i politici che il marketing che le multinazionali conoscono molto bene per pilotare i nostri comportamenti quindi ben vengano le critiche prendiamole sempre in modo positivo perché significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario studiamo affinché possiamo essere in grado di comprendere se questa straordinarietà del nostro pensiero stile di vita eccetera sia qualcosa di positivo o negativo e proseguiamo con grande determinazione sulla nostra strada grazie